Noi dobbiamo dirci che questo Paese ha bisogno innanzitutto di una grande operazione verità. Questi ultimi vent'anni sono stati per l'Italia un quasi fallimento. Lo sono stati se guardiamo i numeri, lo sono stati se guardiamo il nostro divario rispetto a tanti altri Paesi. Allora che sia finito il tempo, dicevo Enrico. Io sono venuto qui, mi ricordo il primo anno come Presidente di Confindustria, nel 2005, parlai delle province, parlai del fatto che è assurdo che nel nostro Paese ci siano così tante aziende pubbliche e municipalizzate nei comuni che con i soldi pubblici fanno la concorrenza ai privati. Dissi che lo Stato era invasivo, abbiamo detto tante cose. Ci siamo sentiti dire in questi anni e soprattutto in questi ultimissimi anni dalla maggioranza che tutto andava bene, che saremmo usciti dalla crisi molto meglio, che chi diceva queste cose era perché voleva fare politica, era perché ci siamo sentiti dire che andava tutto bene. Dall'opposizione ci siamo sentiti dire che tutto il problema era Berlusconi, che nel momento in cui non ci fosse più Berlusconi questo Paese diventerebbe il primo Paese del mondo. Bene, io credo che è arrivato il momento di dirci alcune cose, come dicevo prima, con grande verità. La classe dirigente che ha gestito questo Paese nel suo complesso negli ultimi 15 anni ha fallito. Paese del mondo